A me l'Inter fino al gol della Roma mi era piaciuta e tanto, perché aveva avuto personalità, aveva fatto la partita contro una squadra che fa sempre la partita e l'aveva fatta con intensità e con gamba. Abbiamo preso questa imbucata, sicuramente una grande giocata da Totti Osvaldo, però è una nostra distrazione, secondo me, che paghi. Dopo il 2-1 non mi è piaciuta più l'Inter, perché non siamo riusciti, però penso più per un discorso psicologico, perché è tecnico, quindi in maniera molto serena e molto diretta come sempre faccio io. Io ti dico, mi era piaciuta l'Inter come personalità, poi abbiamo 5-6 giocatori nuovi, ovviamente devi continuare a trovare continuità, ma fino al gol mi era piaciuta, peccato perché anche dopo il 2-1 con l'inserimento di Coutinho la sensazione di arrivare al pareggio non l'ho avuta, mentre prima secondo me l'Inter era sempre pericoloso, ci sono state due occasioni di Guarin a campo aperto, quasi tu per tu con Stegelenburg, lavoriamo.